Cari concittadini e telespettatori di Telemonte Orlando, come sapete la nostra è stata la prima emittente di quartiere nata in Italia, è nata il 24 di dicembre del 2001, dopo di noi è nata Orfeo TV di Bologna, sei mesi dopo, e abbiamo iniziato assieme un programma di lotta politica contro questo sistema di oppressione televisivo che tutti conoscivano, e siamo andati avanti così, fino ad oggi sono state messe sotto inchieste due televisioni, una di Palermo, telefabbrica, alla quale poi è stata demandata di continuare le trasmissioni ed oggi è sotto processo a Senigallia disco volante. Gaeta è la città in cui è nata la libertà secoli fa, i caboto, i tonti, i corbo, i mandolesi sono nati qui, noi ne siamo fieri, siamo fieri della sua storia che porteremo avanti sempre, come porteremo avanti la libertà di voi tutti. Arrivederci. Ciao. Buongiorno. Ciao. Marco. Io vi ho detto se non ve lo taglievo, questo qui lo vado a buttare lì? Vado a buttare lì? Vado a buttare lì. Eh, vedi se trovi il secchio delle incondizioni. Che sei. Lascio. No, aspettate. Spara qui. Qual è? Questo? Io non lo so, uno dei due. Ci sono delle camera? Eh? No, la via ancora no. Non devo provare attaccava. No, aspettate, lo sto solo... Sì, questo si vede? No. Questo è così sta. Questo doveva? Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda. Guarda, guarda. Guarda, guarda. Guarda, guarda. Guarda, guarda. Questa si deve scaldare Devo aggiustarla C'è un coltellino, Luciano? Si sta carburando Conosco il suo difetto Ha bisogno di 5 minuti di preriscaldamento muscolare E quindi poi